Il Cocevo Abruzzo è un consorzio riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole dal 1997, un consorzio accreditato per garantire una gestione sul prelievo della risorsa vongole. Dunque una gestione sostenibile perseguendo due obiettivi essenziali, assicurare gli stock e controllare lo sforzo di pesca. Dunque una gestione applicando delle misure tecniche come la riduzione delle giornate di pesca, la riduzione dei quantitativi, tempi di pesca, facendo delle azioni di ripopolamento e osservando fermi volontari di pesca. Di recente il Cocevo Abruzzo, classificato nella lista di merito del MIFA al primo posto, si è aggiudicato il bando Progetto Pilota intitolato Sperimentazione di attrezzature selettive e innovative per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto è stato finanziato dal Fondo FEAMP 2014-2020, misura 1.39. Dunque il Cocevo Abruzzo conferma il proprio costante impegno nell'innovazione e nella gestione sostenibile della risorsa. Per l'attuazione di questo progetto si è avvalso della collaborazione dell'Istituto Zoprofilattico di Teramo, proprio ente scientifico di riferimento, ed è la consulenza scientifica dei ricercatori, dell'Istituto Brunelli e del CREA. Il progetto ha permesso di realizzare un protocollo sperimentale per valutare l'efficacia selettiva di attrezzature meno impattanti. Il Centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria si sta occupando della messa a punto e ideazione di una draga vibrante. Questa è una draga innovativa che ha essenzialmente due funzionalità. La prima è la dissuasione della fauna vagile, ossia di tutti quegli organismi che si muovono sul fondo e che con questi dispositivi hanno la possibilità di scappare davanti alla draga e non essere pescati. La seconda è quella di un dispositivo vibrante che muove una parte del fondo della draga con la finalità di ridurre la pesca delle vongole di piccola taglia. Un'altra attività che sta svolgendo il CREA è quella di misurare rumore e vibrazioni di questo nuovo vibrovaglio che verrà montato sulle imbarcazioni per migliorare il comfort e garantire la salute degli operatori a bordo. L'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo del Molise e Gica Porale partecipa all'implementazione di questo progetto europeo di innovazione. L'obiettivo generale del progetto è quello di andare a aumentare la selettività degli attrezzi di pesca e di vagliatura della bongolara in modo da impattare di meno la fauna bentonica mediante l'installazione e la sperimentazione di tecnologie innovative. In particolare l'istituto zooprofilattico e l'istituto Brunelli si occuperanno della sperimentazione di queste attrezzature, della draga vibrante e del vagliatore innovativo. Il nuovo vagliatore innovativo non avrà la vibrazione, il mollusco verrà meno stressato perché non subirà la vibrazione e il pescatore, quindi il personale della bongolara, non sarà sottoposto allo stress dell'inquinamento acustico. L'attuazione del progetto è stata sicuramente utile agli operatori del settore, in particolare ai consorsi di gestione, per focalizzare i loro sforzi e concentrare le loro competenze introducendo innovative soluzioni. Bene la legge salvamare del Ministro Costa, che ha cristallizzato finalmente il vero ruolo del pescatore, guardiano del mare, spazzino del mare. La salvaguardia dell'ambiente potrà avvenire solo con la collaborazione dei pescatori consapevoli che vivono il mare ogni giorno. A dimostrare ciò, il COGEVO è stato il primo consorzio di gestione in Italia a praticare da anni la raccolta differenziata a mare, eco a mare. Una pratica di notevole importanza, un primo passo verso una possibile riconversione, o meglio, un connubio tra pesca e difesa dell'ambiente. Un progetto che ci offre prospettive ambiziose, in linea con l'obiettivo tematico, tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficace delle risorse. Tutto questo incoraggia la cooperazione tra esperti scientifici e pescatori per cercare di migliorare la selettività dei mischieri, basso impatto ambientale e riduzione degli scarti, ma nello stesso tempo garantire un livello elevato di conservazione degli stock della risorsa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.